Problemi e disagi al TSMRE di Fondi. Le famiglie esasperate da questi problemi si sono rivolte al sindaco e quest'oggi è proprio qui presente. Sì, la settimana scorsa ho avuto modo di apprendere, sebbene questa cosa ormai è risaputa da qualche mese, andiamo avanti con un problema che a mio avviso meriterebbe così di avere un po' di buon senso da parte di tutti. Credo che la lettera che ho voluto scrivere nei giorni scorsi al neocommissario della direzione sanitaria di Latina vada proprio in questa direzione, ossia preso atto di un problema, bisogna vedere in che modo trovare una soluzione. Ci troviamo di fronte ad un centro che vede decine e decine di utenti che hanno già dei problemi di disabilità molto grave e credo che non possa essere un cancello tenuto chiuso o semi chiuso che possa rappresentare l'ostacolo affinché questo servizio porti a svolgimento quello che è la sua finalità. Le famiglie lamentano che questo cancello non è aperto soprattutto nei momenti in cui c'è la pioggia e il maltempo, di conseguenza sono costretti a fare un percorso a piedi con notevoli disagi. E' altrettanto vero che la direzione sanitaria ha risposto che ci sono dei motivi di sicurezza e sono stato io proprio a rilevare di persona che in effetti c'è un'area non delimitata che potrebbe rappresentare un pericolo. Ciò nonostante sono convinto che bisogna trovare una soluzione. Io come comune ho rappresentato anche la disponibilità del comune a individuare una soluzione pratica che costituisce essenzialmente la recinzione di questa area per far sì che ci sia un percorso isolato. Mi auguro che nei prossimi giorni con l'insediamento ufficiale del commissario dell'Asla Latina si possa trovare una soluzione che credo sia veramente alla portata di mano. Questo è un centro su cui nei mesi scorsi appena ci fu il trasferimento ci furono anche delle polemiche. Non vorrei che queste polemiche da una parte e dall'altra stiano soltanto alimentando ancora di più un disagio che non credo possa riversarsi sulle famiglie. Noi dobbiamo saper trovare una soluzione pratica, quindi oggi abbiamo anche di fronte un centro su cui è stato fatto un investimento notevole, motivo per cui non credo che siano adesso queste poche risorse da mettere a disposizione che possano far venire meno il senso di questo intervento. Quindi mi auguro che tutti, sebbene io non abbia nessuna competenza in questo, essendo l'Asla direttamente responsabile di questa decisione, ma sono convinto che il mio appello possa servire a far capire innanzitutto ai genitori di avere un attimo di pazienza perché si possano trovare quelle soluzioni che mettano in sicurezza un percorso che va anche nella direzione di mettere in sicurezza i loro figli e loro stessi.